e come mi sento bene e come mi sento elegante è una maglia che indosserei non lo so al matrimonio del mio primogenito della mia primogenita è talmente bella ed elegante che voglio stare così per sempre non mi laverò mai non la laverò mai ho già pubblicato comunque anche il reel dove vado a fare l'unboxing dove vi spiego tutto quanto questa ragazzi è la versione autentic quella da 150 euro senza coccarda della copitalia senza nome sul retro pulita senza sponsor né niente l'ho acquistata sul sito adidas perché se l'acquistate sul sito juve arriva anche la coccardina io la volevo proprio il più pulita possibile per essere una maglia non dico da tutti i giorni ma quasi come se fosse una sorta di polo bella se non bellissima e credo che sia davvero la maglia più bella della juve che ho in collezione è notante le avete sempre viste questa mi piace troppo e quindi non vedo l'ora di essere allo stadio lunedì per indossarla e sostenere per la prima volta la juventus di tiago motta ci sono state anche le estrazioni 9 di voi sono stati sorteggiati fortunati se non fortunatissimi contattate su instagram e su twitter i ragazzi di zonda cripto poi ci pensano loro a farvi arrivare i biglietti dovete mandare i vostri dati tutto quanto complimenti ai vincitori ieri sera trofeo berlusconi ho visto un'ora di partita gli ultimi 30 minuti no ma fa lo stesso intanto sale me cares credo che sia l'uomo in più del milano in questo istante e dato che si era parlato anche di lui lato juventus vedremo se ci sarà un incastro oppure no forse il milano potrebbe ragionare sul tenerselo stretto in questa stagione dopo averlo prestato un anno al bologna di tiago motta con ottimi risultati il bologna che ha scelto di non riscattare per 9 milioni e mezzo il giocatore che è tornato a milano e in questo momento sembra anche davvero il giocatore in più ha sbloccato la partita ieri sera anche se dopo una deviazione però con una sua ottima giocata tanti assist tanti anche corridoi per i compagni nello spazio veramente sembra un giocatore già in forma campionato eppure era presente anche calulu a san siro era stato aveva viaggiato insieme ai compagni per andare allo stadio e lì mi erano un po girati perché avevo paura che potesse tirarsi un pochettino indietro invece calulu non è andato in panchina è rimasto soltanto col gruppo squadra e basta per fare gruppo probabilmente non lo so perché era già lì non ho idea oggi potrebbe essere la giornata decisiva e mi auguro che il giocatore abbia deciso anche perché sinceramente io di andare a prendere dei giocatori che non sono convinti di andare alla juve non mi garba tanto come prospettiva poi è ovvio che un ragazzo di 24 anni che in questo momento non sta trovando spazio al milan per gli infortuni che va in prestito alla juve un prestito che non è un obbligo ma è un diritto quindi poi potrebbe tornare indietro questi sono pensieri che possono passare la testa del ragazzo proprio dal punto di vista professionale sono comprensibili però io credo che se la juventus ti cerca con questa decisione e il milan senza pensarci due volte accetta un prestito anche senza l'obbligo di riscatto tu possa semplicemente dire ok vado a giocarmi le mie carte vado a provare a conquistare una maglia addirittura magari da titolare alla juventus dato che a quanto pare il milan non ha tutta questa fiducia in me quindi speriamo nelle prossime ore di poter avere una conferma dal punto di vista della trattativa caluno perché comunque abbiamo necessità di tesserare almeno uno se non due calciatori entro lunedì e avere la disposizione per la partita con il como abbiamo delle conferme da pedulla che dice che rugani ha rifiutato definitivamente l'offerta dell'arabia arabia che sta comunque pensando anche a costic quella di rugani è una trattativa folle se non ai limiti della follia vedete voi dove classificarla e a quanto pare rugani non è convinto comunque la famiglia rugani non è convinta di andare in un paese così distante per tradizione e cultura rispetto all'italia e quindi preferiscono aspettare l'offerta di qualche altro club non sono i soldi in questo caso lago della bilancia quanto più o il progetto tecnico o comunque il paese decisamente differente rugani dice no all'arabia un altro giocatore che era stato cercato dall'arabia è che proprio ieri abbiamo discusso qui sul canale che è Wojtek Szczesny ecco ieri abbiamo parlato di questa possibilità di recessione consensuale molto concreta oggi danno tutto per fatto quindi a breve dovremo attenderci comunicati ufficiali da parte di Szczesny da parte della Juve addirittura si dice che il contratto è già stato annullato in questo momento che probabilmente tutta la macchina di avvocati di rappresentanti è già stata messa in moto tutte le carte documenti sono stati firmati quindi dovrebbe essere soltanto questione di ore per il comunicato ufficiale ci sediamo sulla riva del fiume e attendiamo di capire se anche questa cosa è andata in questa direzione se Szczesny in questo momento in cui vi sto parlando quindi poco prima di mezzogiorno del 14 agosto 2024 può considerarsi un giocatore senza contratto un giocatore svincolato pronto a accettare un'altra offerta oppure come si vociferava ieri addirittura a ritirarsi la Fiorentina viaggia spedita verso Gudmundson e questa è una buona notizia per la Juve perché perché Gudmundson andrebbe a liberare quella casellina relativa a Nico González che in questo momento è stato un po' bloccato a quanto pare dalla Fiorentina perché non c'è appunto sostituto Gudmundson è quel giocatore c'è stata anche una sorta di ultimatum della Fiorentina al Genoa o ce lo date oggi o andiamo su un altro profilo quindi vedremo se Gudmundson arriverà a Firenze se ci saranno conferme da questo punto di vista allora Nico si avvicinerà alla Juve Nico credo che possa essere il giocatore insieme a Calulu più probabile da ufficializzare nelle prossime ore nonostante con Mainers non sia stato convocato per la Supercoppa Europea che si giocherà proprio questa sera il 14 d'agosto le ore 21 Atalanta contro Real Madrid una partita che sulla carta sembra già scritta poi il calcio lo sappiamo è sempre pronto a regalarci nuove sorprese calcio d'agosto poi è sempre una variabile impazzita però anche solo leggendo le convocazioni con tutti i giocatori infortunati o sul mercato d'Atalanta Zagnolo, Scamacca, Cobb Mainers sembra una sorta di guerra impossibile quella che sta andando a fare il buon Gasperini vedremo che cosa succederà vedremo soprattutto se poi l'Atalanta deciderà di liberare il buon Cobb Mainers direzione Torino loro continuano a aspettare questo sostituto però il giocatore è fuori rosa quindi non credo che sia necessario aspettare un sostituto io ho il timore e il terrore che possano semplicemente aspettare un'offerta più alta da qualche squadra più ricca e quindi convincere Cobb Mainers ad accettare poi un'altra destinazione ma queste sono soltanto mie illazioni e considerazioni spero che in realtà il contratto sia già bello che concluse che l'Atalanta stia davvero attendendo soltanto un giocatore come sostituto la Juventus non solo su Nico Gonzalez ve l'ho sempre detto ragazzi la Juve dovrà fare almeno due esterni perché siamo corti sono un cortissimi Sekulov è ufficiale alla Sampdoria quindi anche l'unica riserva che avevamo se n'è andata dal punto di vista qualitativo perdere Sekulov non è assolutamente un problema per la Juve anzi dal punto di vista numerico se a Ildis o UEA viene il raffreddore la sera prima di Juventus è un po' un semidisastro perché non abbiamo altri giocatori da utilizzare in quella posizione quindi la Juventus non solo su Nico Gonzalez ma si muove anche sul fronte con Seisao già ieri era circolata nell'istante in cui ho caricato il video su Scesni quindi poi non sono stato a fare un altro video su Conseisao ne parliamo oggi perché è un nome comunque concreto per la Juventus era circolata la voce che Porto e Juventus avessero già trovato l'accordo Conseisao fosse praticamente in viaggio direzione Torino ecco quella roba lì è stata smentita nel giro veramente di qualche minuto Conseisao è sì un nome sulla lista della Juve il Porto non vorrebbe il prestito però sarebbe anche disposto ad accontentare il ragazzo capisce che l'interesse della Juve è un interesse di un club di un certo livello il ragazzo avrebbe voglia di giocarsi le sue carte quindi il ragazzo vorrebbe effettivamente venire a giocare nella Juventus però il Porto non vuole il prestito secondo Romeo Agresti, un salutone a Romeone c'è stata un'offerta della Juventus addirittura già formalizzata, inviata e respinta dal Porto un'offerta di 3 milioni per il prestito, 5 milioni per il bonus e 20 milioni per il riscatto diritto o obbligo questo non lo sappiamo però Giuntuli si era immaginato questo tipo di formula per arrivare a tesserare il calciatore allora non tanto per la struttura perché ci sta anche il presto è un presto comunque giusto per un ragazzo con un prospetto interessante il numero 10 del Porto, giocatore aggregato alla nazionale portoghese che ha anche fatto gol, ha fatto delle prestazioni all'ultimo europeo quindi non è un discorso economico, io ho visto poco del ragazzo però se ne è sempre parlato tanto bene quindi vediamo che cosa succederà ho solo paura per questa volontà di fare tutto in prestito cioè vai a trattare Todibo e lo vuoi in prestito e vai a trattare Kaluru e lo vuoi in prestito vai a trattare Nico e lo vuoi in prestito vai a trattare Konseisao e lo vuoi in prestito mi sembra davvero che l'unico giocatore ora potenzialmente nelle corde della Juventus per un acquisto a titolo definitivo sia davvero con Mainers quasi come se, e avrebbe senso perché la Juventus ha fatto questo dall'inizio del mercato però organizzato tutto il mercato per avere il denaro contante, la moneta assonante per andare a dare questa lettera all'Atalanta con scritto 55 milioni con i bonus per con Mainers tenetevelo, se lo prendiamo a titolo definitivo, tutto il resto lo facciamo in prestito può essere davvero questo il piano di Giuntoli eh? perché potrebbe davvero essere questo ci sono due cose che però bisogna mettere insieme la prima, che poi i prestiti l'anno prossimo se sono obblighi di riscatto li devi pagare quindi vai a limitarti il prossimo mercato quello lo metti in preventivo ma soprattutto se trovi delle squadre come il Porto che ti dicono senti guarda, io il giocatore te lo do, però te lo do non in prestito anche con l'obbligo, non in prestito, io voglio monetizzarlo oggi cosa facciamo? cioè noi oggi abbiamo la potenza disponibile, la potenza di fuoco disponibile per andare a fare il giocatore a titolo definitivo o per farlo non solo Sule, non solo Uisen ma dobbiamo cedere anche Chiesa, Kostic, Rugani, Nicolussi e compagnia cantante tutti i giocatori ritenuti fuori rosa perché se è così allora c'è la possibilità magari di fargli questi colpi anche a titolo definitivo e non in prestito però dobbiamo prima aspettare le cessioni e quindi andremo verso gli ultimi giorni di agosto quindi viene da sé che la prima e forse non solo partita del campionato verrà persa sarà davvero così? non lo so questo può essere il piano di giuntoli faccio un grosso investimento per come posso permettermi, è veramente grosso per il resto Turam e Douglas Lewis tiro fuori qualcosina perché comunque qualcosina ci aveva da poter tirare fuori anche Di Gregorio è arrivato in prestito con obbligo di riscatto quindi l'idea probabilmente era quella qualcosina ce l'abbiamo il resto lo vendiamo, lo mettiamo tutto su Comainers tutti gli altri giocatori che facciamo in prestito può essere che fosse davvero questa è l'idea però si scontra magari con l'idea di alcune squadre che il prestito magari non te lo danno quindi ho paura di rimanere fregato però vediamo come si sviluppa intanto giuntoli sappiamo per certo che in queste ore sta veramente lavorando in maniera frenetica perché è in ritardo perché deve concludere diverse trattative perché la rosa deve essere completata sediamoci ancora una volta sull'arrivo del fiume ad aspettare che la Juventus venga costruita perché ormai ci siamo ma soprattutto ormai si scende in campo Juventus como con questa secondo me no con la bianconiera ma io sarò lo stadio con questa ciao a tutti ragazzi grazie